In Sicilia, ben 48 delle 96 stazioni della rete Sias hanno stabilito nella giornata di Pasqua il nuovo record di temperatura massima mensile per il mese di marzo, ritoccando il precedente che risale al 2002. I nuovi valori sono effetto delle correnti di scirocco e dei venti di caduta, anomali soprattutto sul settore tirrenico, ma anche i valori registrati nelle aree interne della regione sono stati diffusamente oltre i massimi precedenti, così come è avvenuto anche sul settore meridionale centrale, ad affermarlo i tecnici del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano. Le anomalie sono state assenti o meno marcate sulle stazioni del settore ionico, esposte alle correnti ancora fresche provenienti dal mare, prima che accumulassero calore nel loro percorso dell'entroterra verso nord-ovest. Tra esse, tuttavia, per effetto dell'aria calda e in quota, la stazione Lingua Glossa Etna Nord, a 1.875 metri sul livello del mare, con 17,6 gradi centigradi, ha stabilito il suo massimo valore di temperatura del mese di marzo, della sua serie avviata solo nel 2013. Il massimo valore di 31,8 gradi centigradi sulla rete Sias è stato registrato dalla stazione Torregrotta, nel Messinese, che ha superato il massimo valore mensile precedente di 30,9 e registrato il 22 marzo del 2016. In quell'occasione fu registrato anche il massimo valore assoluto di marzo dell'intera rete Sias, 32,1 gradi, che questa volta però non è stato superato.